Si chiamano Kolochito Keftedes, il nome è impossibile da pronunciare, ma vi garantisco che queste polpette greche con zucchine e feta sono facilissime da fare. Grattugiate le zucchine con una grattugia a fuori larghi, trasferitele in una ciotola e tamponatele. Aggiungete un uovo e il sale e mescolate bene. Poi unite anche la feta, la menta e la farina e mescolate ancora per far amalgamare gli ingredienti. Lasciate riposare il composto in frigo per 30 minuti e poi, con l'aiuto di un cucchiaio, prelevatene un po' e lasciatelo cadere nell'olio di semi ben caldo. Cuoscete poche polpette alla volta fino a che non risulteranno dorate all'esterno, ma morbidissime all'interno. A parte il nome, non sono una bomba!